Ciao amici di Italia Top Games, allora, allora, siamo arrivati al punto in cui posso prendere la leggenda che avete votato voi. Prima però fatemi spiegare un attimo la campagna Juventus MVP che regala 300 punti football. Ho letto di tutto in rete, tipo che non avete avuto i punti football, tipo che non funziona. No, funziona tutto, io ho avuto i miei 300 punti football. Come fare? Sul blog di PES Italia ho pubblicato tutte le notizie, il link della campagna, andate sul link della campagna, arrivate in fondo, collega a Konamid, vi apre un'altra pagina, poi vi porta su Twitter. Lì, ragazzi, il vostro account Twitter non è collegato al Konamid, quindi potete votare o non votare, fate quello che volete. L'importante è collegare il Konamid. Poi dopo, non vi dice da nessuna parte che vi dà i 300 punti, non arrivano imposti in arrivo. Io me li sono visti, come c'è scritto poi nella campagna Konami, sarebbero stati sommati automaticamente ai miei punti football. Ed infatti mi mancavano 150 punti per arrivare a 27.000, addirittura sono arrivato appunto a 27.150. Quindi sono stati sommati tranquillamente i 300 punti e-football. Quindi funziona tutto. Calma, quindi, perché dopo qualcuno le solite cazzate. Io cazzate non ne scrivo, non le riporto assolutamente, riporto sempre cose corrette. Se non sono notizie ufficiali lo scrivo che sono indiscrezione o rumor. Questa è una campagna ufficiale di Konami, l'ho riportata e funziona tutto. 300 punti arrivano. Basta seguire le istruzioni che sono presenti sia sul blog di Paesi Italia e poi sulla pagina ufficiale della campagna di Konami. Allora, veniamo alle cinque icone che vi avevo chiesto di votare e di farmi scegliere appunto l'icona che avrei dovuto prendere. Erano cinque e all'ultimo posto, poverino, anche questa volta, arriva Irwin terzino-sinistro che a me non dispiacerebbe per provare una variante rispetto ad Alaba. Adesso ho preso anche Hernandez del Bayern Monaco. Però, comunque, avrei voluto provare perché un terzino-sinistro che parte da 90 è sicuramente interessante. Ma niente da fare, arriva sempre l'ultimo Irwin con il 3%, quindi, poverino, proprio, l'avete votato in pochissimi. Fa meglio di Irwin addirittura il doppio, però sempre percentuali molto basse, per Khan che arriva al 6%. Poi l'ho trovato come in versione leggendaria, però la versione icona che parte da 93 è indubbiamente molto molto interessante. Al terzo posto, dov'è, 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 eccolo qui. Un centrocampista che pure mi sarebbe piaciuto provare perché, comunque, stiamo parlando di un centrocampista che parte da 90. Scholes, 11% dei voti, quindi, comunque, ha superato almeno la doppia cifra e, comunque, ecco, come dire, è un centrocampista da tenere in considerazione per le prossime icone. Poi, adesso, per il prossimo aspetto, l'aggiornamento di Konami. Vediamo se c'è qualcuno di più interessante di Scholes. In seconda posizione, l'Eterno secondo. Anche l'altra volta è arrivato secondo, ha avuto un buona percentuale, ma arriva secondo e quindi non posso prenderlo. ce l'ho già in versione leggendaria, Pirlo, ha preso il 18% dei voti e, come dire, anche lui è un giocatore che uso spesso, mi piace molto, nonostante il mio 4-2-3-1 a me rende parecchio come giocatore, Pirlo, però arriva dal secondo posto, 18%, e quindi niente. E così, dunque, dopo Maldini, anche questa volta, è una leggenda rossonera. Io inizio a pensare veramente siete tutti milanisti quelli che votano, no, scherzo. Però veramente le percentuali fanno paura, 61%. E allora, ragazzi, questa punta 93, Marco Van Basten, non c'è da dire nulla su Van Basten, solo ricordare la sua grandezza da giocatore, la ritroviamo qui in PES 2021 in versione icon. Avevo già la versione leggendaria e compriamo questo grande giocatore che, indubbiamente, è un portamento offensivo 97, finalizzazione 93, colpo di testo 89, controllo palla 91. Velocità non incredibile, ma comunque buona, potenza di tiro 89. E poi, già partendo da 93, abbiamo 27 livelli di crescita. Mica pochi, mica pochi, chissà quanto arriva in totale. Comunque, lo scopriremo piano piano, quindi, spendo 27.000 punti football e prendo Van Basten. Eccolo qui. Versione icon. Ovviamente per Milano RN, che sarebbe il Milan, età 24, quindi stiamo parlando probabilmente dei primi anni in cui arrivò al Milan. Eccolo qui, un nuovo giocatore è stato aggiunto alla lista membri MyClub. Allora, adesso, per finire, faccio un'ultima cosa. Il mio Van Basten l'avevo lasciato un'attima parte perché avevo visto il sondaggio e non gli avevo rinnovato il contratto per rispermiare GP. Quindi, lo convertiamo in preparatore di ESP. Ragazzi, avete scritto tante cose su come funzionano i preparatori ESP. Certo che lo so che una punta va con una punta, un trequartista va con un trequartista, eccetera, eccetera. Ma ribadisco il concetto, Hernández, ho usato i punti ESP del suo gemello, del doppione che avevo pescato in evidenza. Avevo messo anche la versione base, che però comunque stava già a qualche livello sopra, mi ha dato pochissimi punti. Avete visto anche voi in un filmato Mbappé con un Dembelemme, me ne ha dati tantissimi. Io onestamente ci ho rinunciato a capire se al di là appunto del ruolo, eccetera, ci sono chissà quali spiegazioni. Perché, ripeto, Hernández ne ha usati due e non si è alzato tantissimo. Adesso vediamo un po' il signor Van Basten con la versione, diciamo, leggenda base. Speriamo che mi faccia più di 2.400 punti, anche perché l'avevo già livellato abbastanza. Vediamo, vediamo che succede. Quanti punti? 2.400, avete visto? Pochissimi, pochissimi punti, ragazzi. Che delusione. Dovrò, sarà una lunga via per farlo crescere, eccolo qua. Solo tre livelli su 27 e vabbè. Per fortuna c'è l'opzione agente, ho già fatto qualche... Anzi, ma, sapete che vi dico. Ve lo faccio vedere adesso. Allora, agenti. Agente speciale. Così gli diamo tutto in pasto a Marco Van Basten. E vediamo che succede. Ovviamente campagna opzioni agente, poi se esce qualche punta anche loro. Allora, Francia. Argento. Ecco, German, 77. Anche lui lo diamo in pasto a Van Basten. Vediamo quanti punti espo mi dà. Mille, mamma mia, ragazzi. Male, male. Proviamo il secondo argento. Turchia. Turchia. Un'altra punta, dai. Galatasaray. No, un trequartista. 77. D'accordo. Subito, subito. Tanto il match day con Galatasaray non lo faccio. 2000 punti, già un po' meglio. E poi la palla d'oro. Vediamo. Ancora in Turchia. Speriamo una punta. Luis Gustavo. No, mediano. E dopo lo darò in pasto a qualcun altro. Intanto convertiamo in preparatore ESP. Quanti punti? Oh, 6.000. Bene, 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 bene. Grazie, Luis Gustavo. Ci hai fatto un bel regalone. Allora, adesso facciamo subito. Eccolo qui, Van Basten. Allora, vediamo un po' Germán quanto mi dà. 1.800. Vabbè. Saliamo di un livello. E poi usiamo tutti i preparatori ESP speciali. Sempre per Van Basten. 9.000 punti. 5, 6, 7, 8, 9. E siamo saliti almeno a 95. Comportamento offensivo a 99. Già stiamo a 99. Ebbè, almeno è qualcosa. Siamo a 9 livelli su 27. Adesso farò altri match day, altre cose. Cercherò anche di fare la challenge. Che bastano 4 punti. E mi sembra che dà un bel po' di punti ESP. Coppa Challenge Online. Ancora non l'ho fatta. La faccio oggi. Il tempo è sempre tiranno. Però voglio livellare a bestia Van Basten iconico. Eccolo qui. League challenge. Accumula 4 punti in 3 partite. Sono 20.000 punti. Ebbè, la devo fare, la devo fare, la devo fare. Bene. Io vi ringrazio per essere stati in tantissimi. Ad aver votato l'icona che dovevo prendere. Adesso a marzo, quando usciranno le nuove icone. Non è una notizia ufficiale. Ecco. Questa è una mia ipotesi che faccio. Visto che è successo sia a gennaio che a febbraio. Mi auguro che Konami porti qualche icona nuova nello store dei punti football. Li faremo il terzo sondaggio. Visto che vi piace tanto e che piace tanto anche a me interagire con voi e costruire un po' la mia squadra in base, anche in parte, alle vostre scelte. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo filmato. Ciao.